Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnala un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 32 tra San Miniato ed Empoli-Ovest. In direzione mare rallentamenti per lavori tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli e tra Cascina e Pisa Nord-Est. In A11 l'entrata di Capannori è chiusa in entrambe le direzioni per lavori di ripristino di un incidente che dureranno fino alle 22 di stasera. Infine per i treni, a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pisa Centrale, i treni potranno subire ritardi o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!